Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. A uomini e donne Armando attacca ancora una volta Marica, lei fa le tarantelle. Ha accusato Luigi della stessa cosa che ha detto a me. Questa volta però la dama si difende, sei un bugiardo e mezzo uomo. Mi sono sempre preso le mie responsabilità, ma perché non parli della tua doppia vita a Napoli? Il cavaliere sbotta, ma come ti permetti? Io al mio corpo do valore, tu no. L'unica che devi tacere sei tu.